Ciao ragazzi, eccoci qua in diretta alle 18.22, veramente a pochissimi istanti dall'inizio della partita, Sporting Lisbon a Juventus, un imbarassante ritardo per quello che è stato l'esito, la decisione del collegio di garanzia, c'è stato un annullamento della penalizzazione inflitta da Juventus con un rinvio che probabilmente avremo tra un mese. Che cosa significa questa cosa? Intanto qua in sovraimpressione vi ho messo la nota che è uscita proprio sul sito del CONI, magari vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete andarvi a leggere interamente tutto quello che è stato raccontato. Ancora una volta ciao, magari in questo caso in primo piano. Dato che avevamo messo in sovraimpressione un'altra cosa mi si era spento il microfono per qualche istante, scusate stiamo facendo molto alla veloce ma sono notizie veramente fresche e da ieri aspettavo soltanto questo momento per pubblicare, registrare e pubblicare questo video in cui insieme a voi andavo a raccontare tutto quello che è successo. Quindi la Juventus ritorna terza in classifica, in questo momento riottiene i 15 punti che le erano stati sottratti ma non è finita qui, non è finita qui. Sicuramente è una buona notizia per la Juventus perché non c'è stata la conferma della penalizzazione, non c'è stata la conferma. Significa che comunque all'interno di questo ricorso è stato compreso che le motivazioni che avevano spinto la vecchia sentenza a togliere i 15 punti della Juventus non erano assolutamente delle motivazioni solide e che quindi la Juventus non meritava probabilmente quella penalizzazione di 15 punti per le motivazioni che erano state illustrate. Non significa che la Juventus non otterrà più nessuna penalizzazione in futuro, significa che adesso per il momento c'è l'annullamento e poi vedremo che cosa accadrà appunto tra un mese all'interno di una nuova decisione. Sicuramente ci sono stati dei punti che sono stati toccati dalla difesa della Juventus che hanno fatto un po' vacillare ma questo l'avevamo già capito ieri quando abbiamo sentito le parole del procuratore che dichiaravano che i 15 punti per la Juventus erano troppi. Che cosa significa? Probabilmente è stata una sorta di compromesso perché secondo me all'interno del collegio di garanzia del Conic c'è stata tanta confusione. Il fatto che sia uscita 24 ore dopo questo esito della sentenza significa che internamente proprio al collegio di garanzia ci sono state delle discrepanze. Alcuni magari erano d'accordo, altri non erano d'accordo, alcuni avrebbero accettato semplicemente il ricorso da Juventus dell'annullamento senza rinvio, altri probabilmente hanno preso in considerazione diversi elementi e si sono semplicemente tirati indietro per non dare una risposta. Alcuni probabilmente hanno scelto di non scegliere, non hanno voluto metterci le mani dentro. Questa è una cosa molto italiana, mi viene da dire con estrema franchezza, ma voglio cercare di fare un riassunto, un resoconto di tutta la situazione perché leggo ancora persone che mi dicono che la Juventus si è quotata in borsa, ma il CDA si è dimesso. Ragazzi, la Juventus anche se è quotata in borsa verrà giudicata sulla base di un codice di giustizia sportivo che è uguale per tutti, quelli quotati e quelli non quotati. Il CDA si è dimesso? Sì, assolutamente. Perché i componenti del CDA della Juventus, vecchi componenti del CDA della Juventus, rischiavano dal punto di vista ordinario accusi di agiotaggio, accusi di falso in bilancio e quindi sono due cose separate. La Juventus rischia sotto il punto di vista sportivo e c'è un regolamento sportivo, i componenti invece del CDA rischiano dal punto di vista ordinario, quindi penale. Sono due cose diverse e queste sono le motivazioni. Torniamo indietro di mesi, ma è sempre giusto fare un ripassino perché continuo a sentire cose che non vanno. Le motivazioni della vecchia sentenza, dicevano, le plusvalenze sono una pratica lecita, ma così tante no. È diventata una pratica illecita aver abusato delle plusvalenze. E dicevano la Juventus, quindi, ha creato una sorta di sistema con questa cosa. L'abuso di una cosa lecita diventa illecita perché sempre, secondo l'accusa, secondo le motivazioni precedenti, la Juventus avrebbe volontariamente gonfiato i valori e questo sarebbe provato all'interno del famoso libro nero di Fabio Paratici, un foglio A4, scritto da Federico Cherubini, in cui venivano riassunti alcuni errori della vecchia dirigenza da portare poi in sede di rinnovo contrattuale. Questa era la prova madre chiave delle vecchie motivazioni e grazie a questo foglio A4, sempre secondo le vecchie motivazioni, la Juventus avrebbe gonfiato i valori dei giocatori cercando di alterare i bilanci. Questi bilanci non avrebbero, queste alterazioni dei valori, non avrebbe garantito la Juventus discrezione al campionato, quindi per questo la Juventus non rischia la retrocessione perché comunque il bilancio della Juventus, il patrimonio netto è sempre stato in positivo grazie anche al doppio aumento di capitale da parte di Exor di 700 milioni nell'arco delle ultime due stagioni. Sempre secondo le motivazioni della vecchia sentenza, la Juventus era andata a toccare la lealtà sportiva, quindi l'articolo 4, e non si era preso in considerazione invece l'articolo 31, la norma specifica che andava a toccare le violazioni di materia gestionale ed economica. Quindi avevano messo tutto insieme, avevano utilizzato sì una sorta di punizione su violazioni della materia gestionale ed economica, ma avevano punito secondo l'articolo 4 della lealtà sportiva. Perché? Perché sì. Perché secondo loro, proprio dal libro Nero di Fabio Paratic, la Juventus aveva creato un sistema e quindi sempre secondo loro la Juventus era andata a toccare la lealtà sportiva, aveva fatto questa cosa qui. E sempre nella vecchia motivazione dai 9 punti si era passati a 15, perché? Semplicemente perché sì. Queste erano motivazioni che non reggevano. Queste motivazioni assolutamente non reggevano. E infatti sono state al momento annullate con rinvio a giudizio. Quindi sostanzialmente il collegio di garanzia del CONI ha preso in considerazione quello che la Juventus ha detto proprio ieri, durante tutto il dibattito che c'è stato in aula con gli avvocati della Juventus, ha preso in considerazione queste cose, ha probabilmente valutato la difesa della Juventus come buona e ha detto d'accordo, togliamo questi 15 punti per il momento, perché comunque le motivazioni portate alla difesa della Juventus sono buone, ma probabilmente non siamo in grado oggi di dare un vero e proprio giudizio definitivo. Quindi abbiamo semplicemente rimandato, portato avanti. E anche questa mi sembra una cosa totalmente italiana. La difesa della Juve si poggiava sul fatto che la Juve era già stata considerata innocente all'interno del primo processo dell'anno scorso e che le motivazioni della sentenza che vi ho letto prima non cambiavano di una virgola tutto quello che era già stato provato qualche mese fa, qualche mese prima, quindi l'anno scorso, nel 2022, quindi l'innocenza da parte della Juventus che era già stata prosciolta insieme a Napoli, Genoa, Sampdoria e tante altre squadre. E come al solito, come vi dicevo anche ieri, che se c'è un articolo specifico che è l'articolo 31, non ha senso andare su un generico che è l'articolo 4. Ieri il Procuratore Generale dello Sport aveva espresso infatti dubbi sull'utilizzo dell'articolo 4 e di come si era arrivati effettivamente a decidere quei 15 punti di penalizzazione e così. C'erano dubbi su come erano stati attribuiti, c'erano ieri, ci sono da mesi, o comunque appunto dubbi di come si è arrivati a quel meno 15. Sicuramente le motivazioni della sentenza che abbiamo detto prima oggi sono carta straccia. Oggi sono carta straccia perché se è stato predisposto un annullamento piuttosto che una conferma della sentenza, si pende molto più dalla parte della Juventus piuttosto che dalle motivazioni precedenti. Io credo che ci sia stato anche un buon conflitto interno perché probabilmente qualche testa, qualche poltrona ha rischiato di cadere all'interno di queste 24 ore di discussioni pesanti. Quindi rinvio per nuovo giudizio, non più annullamento senza rinvio e queste riflessioni del procuratore, come vi dicevo ieri sera, sembrano urlare abbastanza, campionato falsato. Quindi ricapitolando, la Juve innocente io non ho mai detto questo e anche oggi non possiamo dire questo con certezza. Se colpevole per quanto mi riguarda è giusto che paghi, ma secondo l'applicazione del regolamento sportivo è in corso, in essere. Quindi, articolo 31, società punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. Questo dovrebbe essere in un mondo normale, questo dovrebbe essere anche all'interno di questo mondo e spero che tra un mese si possa definitivamente chiudere questa faccenda che sta diventando abbastanza nauseabonda. Non dimentichiamoci mai che la Juventus è stata buttata in pasto a una crisi vera e propria di risultati derivanti da questo meno 15, da questa penalizzazione forte all'interno nel bel mezzo di un campionato, qualcosa di veramente brutto dal punto di vista sportivo che ha alterato per forza di cose la corsa della Champions League e che speriamo che possa portare comunque la Juve all'interno della Champions League nonostante tutto, anche perché poi non vorrei mai arrivare alla fine del campionato, tornare ancora una volta su questa sentenza che stiamo parlando di fine aprile, stiamo parlando di fine aprile, arrivare al fine del campionato con ancora tutto in ballo, il filone plus valenza, il filone stipendi e quindi dare una penalizzazione che porterà la Juventus fuori dalle coppe europee per forza di cose dove poi non si riuscirà più a far niente, perché? Perché sì, perché deve essere una pena afflittiva. Quindi è una vittoria per la Juve? È una mezza vittoria per la Juve. È una vittoria per il sistema calcio Italia? Secondo me questa è l'inizio di una guerra, in realtà, perché davvero si era davanti a due possibilità. O dare ragione alla Juve subito e rendersi conto che si era fatta una figuraccia di dimensioni epiche, di dimensioni clamorose, perché si era andati a creare un teatrino veramente dell'orrendo, oppure la soluzione più facile, quella che da ieri davano anche come più probabile quasi tutti gli organi di informazione, quindi probabilmente qualche spiffero c'era già stato, quella di non decidere subito, ridare i 15 punti alla Juventus e poi valutare in seconda battuta. Ma che cosa si rischia adesso in questo caso? Il fatto che anche altre procure stiano indagando proprio su questo filone, quello legato alle plusvalenze, quindi attenzione che non possa nascere una sorta di inchiesta generale legata a tutte le squadre del calcio italiano che sono state prese in considerazione all'interno di queste indagini e che possa essere applicata una maxi punizione a tutte le squadre in base a quelle che poi saranno le prove raccolte, in base a quelle che poi saranno le decisioni che andranno a prendere. Siamo di fronte a un momento grottesco per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché come al solito si è voluto fare un po' tutto alla Carlona, permettetemi questo termine abbastanza dialettale, ma questo è quello che è successo, punizione e poi motivazioni dopo un mese e poi ricorso e poi nuovamente annullamento e poi te lo dico tra un po' e intanto magari inizio a indagare anche su quegli altri. Siamo di fronte a una follia, a una follia che viene completata all'interno di un percorso che ci porta a pensare che la Juventus alle 21 scenderà in campo, tra mezz'ora sulle sette, quindi tra due ore e mezza la Juventus scende in campo con un ricorso il cui esito è arrivato soltanto appunto due ore e mezza prima dell'inizio della partita. Anche questo potrebbe andare a influenzare il risultato di stasera perché sicuramente l'allenatore, i giocatori, i componenti della Juventus nella giornata di oggi si pensavano alla gara di questa sera, ma come dicevo anche nel video di stamattina, se noi tifosi siamo stati tutt'oggi a pensare a questa cosa, tutto ieri a pensare a questa cosa, figuratevi i diretti interessati. Io spero che possa essere una sorta di iniezione di fiducia, diciamo così, che loro possano essere tranquilli, di sapere che i loro 15 punti che hanno conquistato sul campo sono tornati a casa e che Juventus ancora una volta lotterà per riottenerli fino all'ultimo momento in ogni sede opportuna perché penso che Juventus non sia pienamente soddisfatta perché ovviamente la richiesta era quella di annullamento senza rinvio, ma credo che ieri Juve abbia dato una bella stersata forte al sistema calcio in Italia. E adesso ne vedremo delle belle perché come vi dicevo prima o fanno una figuraccia tremenda tutti e iniziano a saltare delle teste, si parlava appunto di Kine che sarebbe stato costretto poi a dimettersi, di Gravina che sarebbe stato trascinato all'interno del ciclone, oppure apriamo un nuovo filone di indagini che va a coinvolgere tutte le squadre dato che le altre procure hanno iniziato ad indagare e poi applichiamo delle sanzioni severe un po' a tutte le squadre in Italia, non dico tutte ma un po' a tutte quelle che sono state toccate dalla faccenda e quindi rischiamo davvero di creare una sorta di nuova Calciopoli 2 in cui andiamo a mettere il calcio italiano al centro del ciclone. Ne ha bisogno? Secondo me assolutamente no, però hanno probabilmente tirato un po' troppo la corda con delle motivazioni ridicole e con una punizione ridicola e sproporzionata rispetto a quella che doveva essere la pena e con un'inflizione di una pena che non doveva appartenere a quello che era il capo di imputazione ed eccoci qua, ancora una volta, un teatrino all'italiana, ancora una volta, non sono minimamente sorpreso. Ci vediamo dopo per il post partita.